Buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Impronte Digitali, video per il progetto Riconnessioni. Perché impronte e perché digitali? Delle impronte abbiamo il segno, i modi del narrare esplorati ad ogni puntata seguendo un tema diverso. Del digitale abbiamo i contenuti digitali, un approccio di questo percorso, di ciascuno di questi percorsi. Io sono Giulia Natale, la puntata piante può introdurvi al meglio in questi percorsi. Oggi il filo conduttore attraverso i linguaggi è il tema città, con due albi e varie indicazioni di app, applicazioni. La scelta del tema conduttore ricade sempre su argomenti vasti, inesauribili proprio allo scopo di dare a noi e a voi ampia autonomia di azione. Questa non è che una delle proposte possibili. Come Norman Rockwell, che abbiamo lasciato nella puntata dedicata ad anziani, anche Miroslav Szaszek è un artista del secolo scorso, altrettanto famoso e altrettanto amato. Nato a Praga, quasi coetaneo dirò quel quasi, illustrò con sguardo scrupoloso paesi e tante tante città. Infatti deve la sua fortuna a una serie di libri di viaggio per bambini, in quanto fu proprio un giramondo. Iniziando nel 1959 con queste Parigi, poi vennero queste Venezia, queste Roma e qui abbiamo queste New York che io ho in inglese, ma molti di questi titoli sono stati tradotti e portati in Italia da Rizzoli. Il suo è un tratto gentile, direi amichevole, gioca con i personaggi tipici delle grandi città, con i luoghi d'arte, con i monumenti, con gli abitanti e con le maggiori attrazioni e lo fa con occhio da turista curioso che fa un reportage umoristico e anche molto originale. Altro modo di farci entrare nella vita delle città e la fortunata serie delle quattro stagioni dell'illustratrice tedesca pluripremiata Rotraut Susanne Berner, portata in Italia da prima da M edizioni, adesso dai topi pittori. Con i suoi libri senza parole passeggiamo nella natura, per le strade, fra i palazzi o anche nei prati, l'occhio va sul dettaglio illustrato, alla ricerca di tutti quei particolari che cambiano di pagina in pagina e che portano allo sviluppo della storia. Si ritrovano le persone, si ritrovano i personaggi, le scene e le situazioni che sono in evoluzione. Le due serie di albi presentati sono modi di guardare le città come ambienti sociali e culturali in cui si sta condividendo la vita con gli altri, ma si può leggere, giocare e viaggiare anche con contenuti specifici se si viaggia alla scoperta delle città insieme a bambini e ragazzi e lo si può fare con pubblicazioni pensate per viaggiatori più piccoli, create ad hoc. Titoli cioè che sono delle vere e proprie guide dedicate ai più piccoli, pensate per i bambini più piccoli con aneddoti, leggende, collane come quelle pubblicate dalla Lonely Planet o dall'Apis Edizioni, da Edizioni EL o con le mappe di Italy for Kids. Se invece siamo con ragazzi un po' più grandi della secondaria, dalla secondaria di primo grado, lo sguardo sulle città potrà avere un'analisi, cioè potrà ricomprendere un'analisi che svela anche elementi architettonici più complessi o urbanistici. Per non far vivere ai bambini e ai ragazzi due mondi scollegati, tutto il digitale fuori dalla scuola contro una scuola priva di contenuti interattivi e a fronte delle tante app scadenti disponibili che trattano il tema città presento qui alcune app che può essere ragionevole utilizzare in classe. In seguito vediamo alcune app disponibili per un ciclo scolastico determinato in un escalation dai più piccoli ai più grandi. Con Wonder dell'editore Art Stories si scoprono le bellezze del pianeta a bordo di un aeroplano monoposto e si prova a costruire la Tour Eiffel e la Statua della Libertà. È divertente. Con l'app la mia città invece ci troviamo in uno scenario ricco di dettagli e di attività interattive per piccole dita anche contemporanee sullo schermo quindi più bambini contemporaneamente e con Fite ci si rallegra seguendo il marinaio in cerca di avventure fra le bellezze del pianeta più generica che può introdurre alle città da usare magari come premessa. Per un lavoro invece a caccia dell'interattività nascosta e di scene attive in una lunga carrellata orizzontale che prevede il nostro trascinamento l'invito è ad esplorare Borgo Nascondino di Vincent Godot. Lo stesso Vincent Godot di cui abbiamo parlato nella puntata corpo ma per una sua app completamente diversa. Qui si spia qui nel senso in Borgo Nascondino si spia la vita degli abitanti di una piccola cittadina dentro e fuori le case dentro ai negozi in chiave artistica e ironica. Le vie, le strade, gli appartamenti, le abitazioni non sono realistiche a tratto rosso spesso alternato contenente quello blu fine, molto fantasiose, un ottimo punto di partenza per ragionare sulle tante possibili rappresentazioni degli spazi urbani. L'app Pass for Future si rivolge ai più grandi ed è stata voluta dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e realizzata in collaborazione con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali sviluppata poi dai creativi di tuo museo adatta alla secondaria di primo grado Una Pietra Migliare. Di cosa si tratta? Di spostarsi all'interno di contenuti interattivi molto densi e molto ricchi che vi invito a scaricare ma da esplorare direttamente in classe con i ragazzi. Vi lascio qui le tappe salienti della narrazione solo per dare un'idea dello sviluppo e dell'architettura dell'app. Non posso registrarla direttamente dal mio iPad perché è talmente lunga, è talmente da analizzare insieme che ne darei soltanto una troppo riduttiva idea. Per una buona fruizione però vi posso dire che, anzi direi proprio per una buona lettura di quest'app, per una lettura corretta di quest'app è importante seguire. Le meccaniche di gioco, la trama che si sviluppa intorno alla scomparsa di una donna a Taranto e vedremo, anzi vedrete, in che relazione è con il protagonista e poi la cosa interessante è andare insieme al protagonista per piazze, vie e strade in una bella città forse poco conosciuta come è Taranto ritrovarsi poi, ritrovandosi poi nelle sale di un museo e ambientare un gioco interattivo che qui è diventato un'app in una città. Non è forse una buona via per interessare i ragazzi alle bellezze e alle opere d'arte di quella città proprio tra l'antico splendore i giorni nostri? Sì, secondo me sì lo è e ve ne daranno conferma immagino. Si gioca e si impara la storia. Concludo e vi saluto con l'indicazione di un'app che dal 2014 continua a essere scaricata e amata e che spalanca un'altra porta di dialogo con i ragazzi proprio della secondaria per l'ambientazione onirica e il sonoro surreale. Monument Valley in cui tutto verte intorno alla costruzione di scale, passerelle, torri, mezzi architettonici. Tutta questa costruzione è creata da noi per aiutare la principessa Ida nella sua missione. Si costruisce un mondo ma la mia sensazione è molto più quella di costruire una città. Si costruisce uno spazio fantascientifico in cui muoversi fra illusioni ottiche, geometrie impossibili e edifici meravigliosi in un ambiente vuoto che si va a creare molto suggestivo. A presto con la prossima puntata di impronte digitali, sempre attraverso i linguaggi narrativi.